Speculazioni su speculazioni, è quello che sta avvenendo in questi giorni di coronavirus partendo da Coronacoin, la cripto che specula sul coronavirus, una criptovaluta per l'epidemia da coronavirus che si chiama appunto Coronacoin. A proporla un team composto da europei, non si sa ancora bene o come, è nato comunque all'interno di un post su Reddit. Come funziona? Beh, chiaramente funziona numericamente come numero degli esseri umani e ogni 24 ore vengono calcellati, bruciati i coin derivanti delle persone contagiate oppure purtroppo decedute con questa malattia. Quindi un aumento del valore in base al numero di coin in distribuzione, una sorta di deflazione. E questa non è una delle speculazioni perché anche Amazon è intervenuta all'interno della propria piattaforma per non accettare più speculazioni né sui prezzi né sulla vendita di prodotti accompagnati da una descrizione non conforme a quanto realmente offerto. La classica vendita delle mascherine a 300 euro. Insomma, ognuno di noi è in attesa di capire come funzionerà appunto il coronavirus, ma nel frattempo tra criptovalute, vendite e-commerce, cioè tutto si è pompato, tutto si è lanciato per in qualche maniera speculare questo fenomeno. Questo fenomeno che in realtà, come avete visto appunto in questi ultimi giorni, continua a far parlare di sé ma continua in realtà la speculazione. Perché? Perché siamo un po' in un'epoca in cui basta lanciare una tematica, basta lanciare un trend e in qualche maniera si viralizza. È proprio il caso di dirlo appunto per quanto riguarda una malattia. È una sorta di metafora di quello che accade a livello di comunicazione e quello che poi ognuno, mutuo all'interno della propria nazione, ognuno fa sì che questa tipologia di comunicazione in qualche maniera si allarghi e qualcuno ci guadagni fondamentalmente. Un altro giorno parlavo con una persona e dicevo guarda che effettivamente avevo letto un articolo in merito a chi sta guadagnando da questa tipologia di fenomeni, di problematica. E confidavo questo amico e dicevo guarda che siccome dovremmo anche cominciare a pensare a chi in realtà studia come marketing tutti quei fenomeni dei nostri cambiamenti d'umore, i nostri cambiamenti di posizione, siamo tutti bravi a ragionare quando le cose vanno bene, siamo tutti molto bravi come marketer e come operatori del marketing a lavorare quando le cose vanno bene. In realtà i fenomeni, quelli bravi, si vedono nel momento del bisogno, si vedono nel momento in cui le cose vanno male. E come in questo caso sicuramente dietro a tutte le speculazioni eticamente assolutamente da cancellare, ma ci sono elementi geniali come questi ragazzi che hanno creato questa criptovaluta. Nel giro di una notte appena hanno visto che questo poteva essere uno dei fenomeni e chissà quanto ne hanno lanciate, hanno cominciato chiaramente a vendere questa criptovaluta, a posizionarla. Ma è la stessa cosa per quanto riguarda chi vende prodotti su Amazon, ora il colosso di Bezos si è messo a controllare, ma siamo appunto all'inizio di marzo. Insomma, sono passati tre mesi da quando più o meno l'informazione circola online ed è più o meno verificata da questo punto di vista. Soprattutto almeno nell'ultimo mese, quando lo sappiamo anche noi persone comuni. E quindi questi vendono prodotti, si muovono molto agilmente da questo punto di vista rispetto a tutti gli altri. È un po' come si diceva una volta, il pesce pesante versus il pesce leggero, quello veloce versus quello lento. Non è più l'epoca del pesce grande che mangia il pesce piccolo o del pesce piccolo che mangia il pesce grande. È quella velocità e quella rapidità di riuscire a cambiare il mercato a proprio favore con una scelta, con un'intuizione, con una capacità di prevedere appunto il futuro, anche negli eventi drammatici come questo. Io sono Mario Moroni e questo è il caffettino, come ogni mattina alle sette e mezza, ci troviamo qui. Oppure anche su Telegram, Mario Moroni canale, entrate lì e ci divertiamo. Una buona giornata, fate i bravi eh, mi raccomando, a domani. Grazie.